Ebbene sì, il nuovo BTP valore avrà un rendimento pari a circa il 4,40% lordo. In questo video cerchiamo di capire se il rendimento del nuovo BTP valore è conveniente rispetto agli altri titoli di Stato già presenti sul mercato di borsa italiana. Prima di vedere se conviene comprare il BTP valore o un altro BTP, io mi presento, sono Davide Pasetto, consulente finanziario indipendente di Atena SCF. Innanzitutto andiamo a vedere le caratteristiche principali che contraddistinguono la nuova emissione di questo BTP valore. Allora, la durata è pari a 5 anni, la scadenza sarà ad ottobre del 2028. Le cedole saranno trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Ed ecco qua il nuovo tasso minimo che è stato annunciato proprio oggi. È pari al 4,10% per il primo, secondo e terzo anno e pari al 4,50% per il quarto e quinto anno. Quindi un tasso di tutto rispetto. È presente poi un extra premio fedeltà dello 0,5% che si ottiene se il BTP valore è comprato in fase di collocamento e tenuto fino a scadenza. Potrai poi vendere il BTP valore anche con vendita anticipata. In questo caso ovviamente non otterrai il premio fedeltà. Il periodo di collocamento va dal 2 al 6 ottobre del 2023, salvo chiusura anticipata. La quotazione sarà sul MOT di Borsa Italiana e questo è l'easing corrispondente al nuovo strumento finanziario italiano. Il rating è di AAAB, appunto associato al rating dello Stato italiano. Il taglio minimo acquistabile è pari a 1000€, quindi è ideale per tutti gli investitori retail. Il prezzo di emissione e di rimborso a scadenza sarà pari a 100. Il regime fiscale è quello agevolato al 12,50% dove non è presente nemmeno l'imposta di successione. Non c'è nessuna commissione in fase di emissione, quindi se si compra BTP valore in fase di collocamento e lo si porta fino a scadenza, fino a rimborso, le commissioni saranno pari a 0. Ed è acquistabile facilmente dal proprio home banking a partire dal 2 ottobre del 2023. Ora cerchiamo di vedere se il rendimento del 4,40% lordo circa è appunto conveniente o meno rispetto agli altri titoli di Stato. Ricordo che appunto il tasso minimo garantito sarà pari ai primi 3 anni al 4,10% e agli ultimi 2 anni al 4,50%, a cui ai miei calcoli ho aggiunto anche l'extrapremio fedeltà dello 0,5%, quindi ho fatto una simulazione di quell'investitore che lo compra in fase di collocamento e lo porta fino a scadenza. Allora, ecco qua, il BTP valore avrà un rendimento di circa il 4,40-4,41% e un rendimento netto pari al 3,86-85%, quindi comunque un ottimo rendimento. La durata è appunto pari a 5 anni, la duration 4,70% e la duration modificato 4,50%. Sono andato a cercare su Borsa Italiana gli altri BTP a tasso fisso già presenti che avevano una durata simile e ne ho trovati 3, tutti ovviamente con una buona cedola. Ho trovato il BTP che scade ad agosto del 2028 con cedola del 3,8%, il BTP che scade a settembre del 2028 con cedola del 4,75% e il BTP con scadenza dicembre 2028 con cedola del 2,80%. Dalla colonna durata si può vedere come è abbastanza simile a quella del BTP valore, si varie da un 4,84 a un 5,17, ovviamente era impossibile trovarla precisa, ed ecco il rendimento netto nell'ultima colonna che varie da un 3,56 a un 3,72%. Quindi rispetto al 3,85-86% del BTP valore si può rispondere che infatti il BTP valore è più conveniente rispetto agli altri BTP a tasso fisso quotati su Borsa Italiana con durata molto molto simile. Ovviamente bisogna ricordare che se uno vuole investire per la prima volta in un titolo di Stato con tale scadenza dati alla mano è conveniente di più il BTP valore, ma ovviamente bisogna tener conto che è idoneo solo a quegli investitori che hanno un orizzonte temporale di tale periodo, quindi 5 anni, ed inoltre è bene ricordarsi di non sovraesporsi al mercato italiano perché ci sono altri titoli di Stato di altri paesi che hanno comunque dei buoni rendimenti e un rating in realtà più alto dell'Italia, vedi la Germania, anche la Francia o magari andando fuori Europa per esempio anche gli Stati Uniti anche se ovviamente bisogna esporsi alla valuta del dollaro. Quindi ricapitolando, il BTP valore avrà delle cidole trimestrali, durerà 5 anni e avrà circa un rendimento lordo del 4,40% e un rendimento netto di circa il 3,85%. Questo è tutto, ovviamente se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale di Atene SCF che quando usciranno nuove emissioni su Borsa Italiana di titoli di Stato interessanti li andremo sicuramente a valutare. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima!